Ecco, guardate il movimento qua, poi rimanga con me, il movimento frontale di questa cordice che viene un po' fuori, a creare un ulteriore movimento sotto, su quel cassetto guardate che cos'è, vi prego, vedete l'armonia, ma pur essendo mosso, non è quel mosso dell'Olanda, quel mosso della Francia, quel mosso di parte dell'Italia, ha un rigore, non so se voi percepite come me la personalità e il rigore di questo ribaltino. Io, vedete, appena l'ho vista ho detto questa è dell'area tedesca, voi mi dite, ma com'è sta storia? Siamo lì, può essere l'Alto Adige, la Basso Sassone, non ha importanza, ma ha un senso di purezza pur nel movimento.